La torre, quella di Ugo, dove i ragazzi stanno andando a caricare la loro roba giù sopra così. Andavano lontani. No, pareti così. Vediamo questa interazione. Vediamo che se non funziona siamo limitati. Andiamo? Penso così. Vado. È un rischio l'ordine. Questo me lo tengo. Questo tozzo nella tappa. Io questo me lo porto a casa. Il punto ufficiale fatto da te. C'è un punto di vista di autorizzato dal mondo. E si deve anche autorizzare per farne il tappo. Capisce? Tutta volta è un punto di vista che ci apprezziamo. Ma c'è un punto di vista. No, però non ho detto che tu ci puoi eser solo questo. Adesso dovrebbe che ti sia rispetto a cercare il lavoro. D'氏 è un punto di vista di un'altra domanda. Se io mi fa una mappa. Non lo so, vogliamo sapere, ok? Allora, no. Allora, volevo dire una cosa. Allora, vorrei, visto che nei decinti pochi dei premi, ecco anche a Samsung hanno deciso di affinare una nuova strada degli U.A. anche dal punto di vista delle premiazioni, cioè di nuovi premi alla creatività e siccome calcolate che oggi sei tu qui, ecco, allora vorrei chiamare sul palco Carlo Varnocco e il presidente di Samsung Italia per procedere a una sorpresa per te, perché sai, chissà come vai, si ritiene alla Samsung che tu sia nel temore dei premi nel momento in cui si parla di creatività. Vado io con l'italiano, ma sull'italiano vado meglio io. Ci è piaciuto oggi, diciamo, l'aria, visto che all'insieme alla creatività, questi prodotti che pensiamo, come dire, possono esaltare la creatività anche di tutti i ragazzi, tutti i giovani che possano approcciare la nostra tecnologia, avere qui, voglio dire, il maestro, voglio dire, della penna, quello che ha fatto la creatività, o l'Oscar, l'Oscar della penna, maestro Antonio. Io avrò tante assistenti che sono anche tecniche, lavorano tutti quanti. E quindi ci farà un piacere, magari, a modo loro anche di, perché non lo provano. Oggi non è una posta, ecco. Non è sempre che la posta, la sostiene, la mia italiana, la mia italiana, è lanciata. Perché a me non mi va a poter insegnare, allora anche. quindi oggi per la prima volta abbiamo fatto la prima edizione di questo premio speriamo di poter creare con qualche altro creativo nel futuro questo nuovo premio di creativo di innovativi che con piacere che con piacere il nostro presidente grazie 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 grazie